...verrà a mettere gli elettrodi, noi dobbiamo solo subire questo collegamento dello spinotto perché abbiamo veramente bisogno di questo elettroshock. Anche col calcio? Quali sono state le richieste di Silvia? Le proposte sono state quelle di una presidenza per quanto mi riguardava, una sua vicepresidenza e altre situazioni collegate alla gestione. Un calcio che esce a pezzi anche con i calciatori non avete poi trovato a porta? Non si può parlare di mancato accordo e purtroppo quello che a me dispiace è che non c'è stato dialogo. Non è un problema dell'accordo, l'accordo ci può essere o non essere alla fine di un percorso ma bisogna dialogare, con loro non è stato assolutamente possibile dialogare e questo è l'aspetto più negativo e che mi fa pensare che ci fosse già qualche scelta a prioristica senza voler confrontarsi su altri temi.